19 gennaio, San Mario. Come già la luce della stella misteriosa guidò i magi e la culla del neonato re, così vediamo lo splendore che irradia da Roma, imporporata dal sangue dei martiri, a trarre irresistibilmente i santi proposti in questo giorno dalla Chiesa alla nostra venerazione. Mario, Marta sua sposa e i loro figli Audiface e Abaco, venuti dalle lontane regioni della Persia al tempo dell'imperatore Claudio il Gotico per visitare le tombe degli apostoli e dei generosi testimoni di Cristo. Meriteranno presto di essere associati al loro trionfo. Confesseranno anch'essi a loro volta il divino bambino tra i più atroci tormenti, aggiungendo con la loro vittoria un nuovo fiore alla corona della città madre e maestra nella quale ieri celebravano le grandezze. Il respiro concesso ai cristiani dall'editto di Gallieno non fu infatti di lunga durata per i fedeli di Roma e, durante il breve regno di Claudio II, il sangue dei martiri scorse nuovamente nella città imperiale. E la passione di questi santi pellegrini ci dimostra mentre pongono, fin dal loro arrivo, le proprie persone e le proprie ricchezze a servizio dei perseguitati. Cercavano e visitavano nelle prigioni quelli che avevano sofferto per la fede ed era tale la devozione che nutrivano verso di essi che, dopo averne lavato le ferite, si spargevano sul capo l'acqua che era servita a quel caritatevole ufficio. Con un religioso zelo si occupavano di recuperare i corpi dei valorosi confessori e di dare onorevole sepoltura alle loro sante spoglie. Tale dedizione non poteva passare a lungo inosservata. Arrestati insieme con altri cristiani, Mario, Marta e i loro figli ottennero la palma del martirio che così ardentemente bramavano. Secondo la tradizione furono condannati a morte il 20 gennaio del 270. La chiesa tuttavia li festeggia il 19 essendo l'indomani consacrato interamente alla memoria dei santi Fabiano e Sebastiano. Sono veramente fratelli coloro che hanno vinto le iniquità del mondo, hanno seguito Cristo e possiedono gloriosamente il regno celeste. Così canterà la chiesa in un'altra circostanza dell'anno associando al trionfo di Cristo risorto altre schiere di martiri. Ma quale lode si addice allora agli illustri soldati di cui celebriamo la vittoria? Se lo spettacolo della buona armonia tra i membri di una stessa famiglia è degno d'ammirazione, che dire quando questa concordia si verifica in mezzo alle opere più eroiche della carità e nelle più alte aspirazioni verso la patria celeste? Fate dunque gloriosi martiri che, dietro il vostro esempio, troviamo sempre di mezzo a noi l'unione dei cuori nell'amore e nel servizio del Verbo incarnato. Sotto la prova delle più crudeli torture, la vostra ardente volontà di seguire il Maestro fino in fondo vi incoraggiava a vicenda, alla costanza e a glorificare Cristo per essere posti, con le vostre sofferenze, nel numero dei Suoi privilegiati servitori. Chiedete per noi, insieme a un aumento della virtù della fede, una dedizione senza limiti a colui che è venuto sulla terra per riscattarci e le generose disposizioni che ci porteranno ad affrontare tutto per lui e a soffrire tutto per la sua gloria.